Ciao bambini! Oggi ti ho portato tante sorprese Una... Un momento Il problema è qua laggiù Queste ci sono Fammi parlare Ci sono tre scatole Una, due e tre E tutte e tre contengono tre sorprese Una contiene delle sorpre... Una sorpresa per ragazzi Super speciale Un'altra contiene Una sorpresa sia per ragazzi che per ragazze E il terzo contiene un pollo Chi prende il pollo deve fare il verso del pollo Nooo Sì, quindi scegliete la vostra scatola certamente Quella? Apriamola una alla volta Aspetta, aspetta, comincia ad aprirla Simone, Simone, apri e vediamo se becchi il pollo Cos'è preso? Cos'è, cos'è? C'è orso? Fa vedere Fa vedere, c'è orso? No, io prendo il pollo Non puoi guardare, lo guardiamo dopo Ah, mi fa la pasta Spaghetti Belli cucini Simone di Marti ha preso quello multiplo Sì? Poi io qui Mi cucini la pasta col pomodoro? Devi mettere prima la salsa, quella pasta Io aspetto che tu cucini allora Tocca a te Ma io apri tu Devo aprire io? Ah, io apri tu Insieme Nooo, ha beccato il pollo Funzioni Forse no Forse no Preparate No Sì, aspettiamo che gioco a Simone Oh, io ho vinto solo la roba per Max Che cosa hai vinto? Dinosauri Il PJ Max Oltre il PJ Max E' un altro dinosauro Io ti ho comandato la pasta che mi ha preparato Simone Quindi ha perso Rosi e io ho vinto Simone No, anche Simone ha vinto per tutti i giochi Mi ho perso E direi che volevo far perdere te No, io sono un pollo Ti prego, ti prego aiuto Ma noi non siamo amici? Ma noi non siamo amici? Io alzo No, lui arriva Ma che altra sorpresa abbiamo? Io alzo La sorpresa è che Ci mettiamo a cantare Cosa ci mettiamo a cantare? Tuzzino Pio? Cosa ci mettiamo a cantare? Mmm Io lo so O che dici? Dici una cosa Sì, è bellissimo Lo facciamo nel prossimo video Nel prossimo? Sì Va bene, dai Allora per questo video vi salutiamo Ciao bambine Alla prossima Ciao Ciao